Ormai è solo questione di giorni per il licenziamento collettivo del personale alla Fondazione Mario Negri Sud in liquidazione. Primo incontro tra sindacati e commissari liquidatori il 29 aprile nella sede dell'ex istituto di ricerca Santa Maria in Baro. Prima di giungere a questa data si sono tenuti altri incontri in regione e provincia di Chieti, già soci prima del consorzio e poi della Fondazione. Il punto con Ernesto Magnifico, segretario Fisa Scat Cisle. L'Assemblea ha aggiornato su questi tre punti. Un punto è riguardo all'incontro che c'è stato in giunta provinciale e che sostanzialmente non ha proposto soluzioni innovative se non quella di un ulteriore incontro in un tavolo regionale. Dopodiché abbiamo aggiornato i lavoratori sull'incontro che c'è stato con i commissari liquidatori che ci hanno detto di aver optato per una liquidazione generale della Fondazione. Il che significa che riconoscono che non ci sono abbastanza soldi per pagare tutto quello che c'è da pagare. Detto questo, l'ultimo aggiornamento è stato invece sull'incontro fatto presso l'Inps dove il funzionario Pierluigi d'Arcangelo ci ha rassicurato rispetto alla possibilità per i lavoratori di accedere al fondo di garanzia e per cui recuperare le ultime tre mensilità e il trattamento di fine rapporto. Insomma, dalle 21 mensilità arretrate solo tre saranno corrisposte per un massimo di 2.000 euro a dipendente. La politica ha messo ormai una pietra tombale sul Negri Sud? Forse no, dichiara Angelo Di Santo, RSU CGL. Una volta concluso l'iter del licenziamento collettivo, di fatto potremmo finalmente accedere agli ammortizzatori, in questo caso all'internità di disoccupazione Naspi. La politica lì abbiamo sentiti, di fatto non mettono una pietra trombale sull'istituto in quanto parlano di rinascita di un nuovo ente, per recuperare quantomeno le maestranze. Grazie. Grazie. Grazie.